madonna ragazzi che sveglia buongiorno preparati di matrimonio in corso stiamo andando in aeroporto Mercedes Claset non ci facciamo mancare niente ciao ciao ragazzi ciao fidoli fidoli di weekend questo weekend è in Puglia dove? vi faremo vedere effettivamente cosa vuol dire partecipare ad un matrimonio in Puglia come già guarda già se ne va gli sposi lì che ti aspettano poi tu ci fiondi nel mezzo tra parentame vario il fatto che una nostra paetanea si sposa mette un po' un bel po' d'ansia e tu ti vuoi sposare? siamo alla scelta del TAM dobbiamo capire dove siamo un altro momento importante con il matrimonio sull'ingresso degli sposi nella zona di cipi metto ci possiamo andare a vedere da lì un po' di dubbio perché sta pagato è come non poter assistere al ballo degli sposi è tutto un fratto e infine si arriva sempre al momento cruciale del taglio della torta auguri agli sposi e adesso finalmente possiamo cominciare a distruggerci con i dolci due meno meno forse siamo giunti al termine ma non prima dei confetti non può finire la serata senza la consegna l'altro secondo veniamo la bambina alle tre va a ballare vado a ballare andiamo in camera io lo so qui siamo andiamo a ciao ciao